Nascerà Marco Campolunghi? Secondo me sì, dopo stanotte nove mesi e siamo a posto Io divento zia, Alice e mamma, Luca e papà No, no, tra una decina d'anni Sette, otto anni, dai Chanel e Robert Eh, Chanel nascerà Raga, prossimamente sei dici anni incinta Non scherzo Mi ha anche Quattro dici Quattro dici anni incinta